6 cubi o 7? Osserva l'immagine. Quanti cubi riesci a contare? Il numero dei cubi che riesci a contare varia. Se consideri le superfici nere come la faccia superiore dei cubi, conterai 7 solidi. Sai se le superfici nere le consideri come base dei sogni. Questa illusione ottica è dovuta al nostro sistema occhio-cervelli che inganna la realtà.